Un piacere, dopo la conferenza stampa di ieri di EMA e poco fa la conclusione del C-HMP, che è il Comitato di Valutazione dei Farmaci ad Uso Umano di EMA, che ha approvato e ratificato quanto già ieri era stato proposto dal PRAC, che è il Comitato di Farmacovigilanza, AIFA ha poco fa revocato il divieto d'uso che era stato emesso alcuni giorni fa e se ricordate anche nell'emissione di questo divieto d'uso vi era scritto che era temporaneo e fino a pronunciamento di EMA. Il pronunciamento di EMA ieri è stato molto seguito e mi avviso molto bene riportato sui principali giornali, mezzi di informazione. Abbiamo tradotto e messo a disposizione sul sito tutto il materiale che EMA ha finora messo a disposizione e ulteriore materiale e documenti che verranno prodotti nei prossimi giorni.